Massoda, l'ultima roccaforte della resistenza e la scelta del sacrificio. Sulla cima di un altopiano roccioso con vista sul Mar Morto, la fortezza di Massoda fu l'ultimo rifugio della resistenza ebraica contro il dominio romano. All'interno delle sue mura, la vita continuava in mezzo ai preparativi per la guerra, con famiglie che si riunivano intorno ai compiti quotidiani e guerrieri che affilavano le loro armi. Guidati da Eleazar Ben Yer, i difensori erano determinati a resistere a tutti i costi. All'esterno, le legioni romane avanzavano inesorabilmente, circondando la fortezza e costruendo una rampa d'assalto. La tensione aumentava men mano che la rampa romana si avvicinava, e un contrattacco notturno dimostrò la disperazione e il coraggio dei difensori. Ma la situazione era cupa, ed Eleazar, in un discorso infuocato, incitò il suo popolo a scegliere la morte libera piuttosto che la schiavitù. Le famiglie si prepararono per il sacrificio finale, e quando i romani finalmente sfondarono i cancelli, non trovarono resistenza, ma il silenzio della morte. Gli abitanti di Masoda avevano scelto di morire a modo loro, preferendo il sacrificio alla resa. Oggi, Masoda è un simbolo eterno di coraggio, resistenza e sacrificio, ricordato da visitatori che continuano a rendere omaggio alla memoria di questo momento decisivo della storia. Non dimenticare di iscriverti per non perdere nessun episodio del nostro programma.